La procura di Palermo sospetta che dietro gli sbarchi ci sia un'organizzazione fedele a Gheddafi. A Lampedusa aumentano i migranti e il sindaco chiede che si intervenga rapidamente. Il servizio è di Matteo Parlato. Dietro gli sbarchi c'è Gheddafi? La direzione distrettuale antimafia di Palermo ha aperto un'inchiesta per capire se i viaggi non siano organizzati da militari fedeli a Raiss. In particolare, le indagini si concentrano sugli sbarchi tra il 1 e il 6 agosto, quando su un barcone furono trovati 25 cadaveri. Sull'isola la situazione rimane difficile. Con gli ultimi 554 arrivi sono più di mille le persone tenute nel centro di accoglienza, progettato per accoglierne 800. Il 9 settembre la sottosegretaria all'interno, Sonia Viale, in visita sull'isola, aveva sottolineato che il governo continua a operare per ridurre il tempo di permanenza sull'isola dei migranti. Mentre il sindaco De Rubeis le aveva fatto notare che non è possibile credere di poter detenere nel centro di Lampedusa un numero così elevato di migranti, visto, ha concluso il sindaco, quello che è già successo e quello che potrebbe di nuovo accadere. Oggi non ci sono stati arrivi, ma Finanza e Capitaneria di Porto sono in costante allerta con uomini e mezzi pronti a partire in qualsiasi momento.